Come è andata Laguna Seca? I problemi di Valentino, questo era il link che facevo, non erano legati solo al suo stato di salute ma c'erano altre vicissitudini. Va detto che i sorpassi di Lorenzo e di Stoner, quest'ultimo, quello al cavatappi all'esterno, sono fra i sorpassi più belli visti a Laguna Seca negli ultimi anni, se parliamo di sorpassi avvenuti dentro la pista. Va anche detto che le chiacchiere da web, quelli inutili robetta, visto che sono alcune migliaia di persone che si sono lamentate un po', hanno ridimensionato, forse il merito è quello, gli estri televisivi da telecronaca, anche se in compenso si è fatto di tutto per recuperare nel dopogara con un po' di fantasia, riuscendoci in pieno. L'ordine del giorno è rompere le palle a caldo a Dovizioso sul contratto 2012. Terzo in campionato, sempre vicino al podio, migliore degli italiani, il più regolarmente vicino agli alieni, è una cosa che non dice nessuno a Dovizioso. Gli chiedono se è fuori dalla Honda, se si sente fuori per il 2012. Una domanda intelligente. Poi un'altra domanda intelligente è il duello tutto italiano Honda con Simoncelli. Ma quale duello? Quale? Dovizioso ha 143 punti, Simoncelli ne ha 60. Se i ruoli fossero invertiti si parlerebbe di lezione di motociclismo e di Dovizioso dallo striscia cervelli, di super talento. Invece questo giustamente chiede, ma quale duello, scusa? A Lorenzo invece chiedono come mai cade così. Cioè questa è la cosa migliore che gli viene in mente da chiedere a uno che da rotto si gioca al mondiale e quasi vince la Guna Seca. E partono giustamente un paio di minuti di presa per il culo da parte dello spagnolo che risponde un po' come gli capita, facendo battute, eccetera. Il minimo. Con Simoncelli invece si passa un po' da Zellig a X-File. Cioè è un mistero che uno così cada così tanto. Uno che ha più talento di Lorenzo al debutto di MotoGP. No, qua mi freddo. Che Lorenzo ha fatto al debutto pole position e secondo posto in gara davanti a Rossi. Terzo nella seconda gara. Poi ha vinto dopo, poi è diventato leader del mondiale. La stagione poi dopo, insomma, fra un po' di cadute, piazzamenti e così, ha fatto quarto a fine anno con 190 punti. Simoncelli che non è una matricola, a differenza di Horgan nel 2008, invece ha fatto più cadute di Lorenzo in quell'anno. Quindi ha più talento di Lorenzo. Prima e cinque gare di Lorenzo. Secondo, terzo, primo, quarto e secondo. Prima e cinque gare di Simoncelli. Undicesimo, 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 no, decimo, nono e settimo. Lorenzo ha finito quarto nel mondiale e quell'anno Simoncelli ottavo. È però in prova Lorenzo fatto debutto con pole position. Simoncelli non mi pare. Eh ma Simoncelli è più giovane. No, hanno la stessa età. Leggiamoli, sti almanacchi, invece di scrivere le prefazioni e di tenerli nella libreria abbinandoli al colore degli altri libri. Poi dicono, non dico che Simoncelli deve fare il dovizioso ma una via di mezzo. Ma magari facesse il dovizioso. Deve andare scalzo alla Madonna dello sterpetto di Barletta se diventa dovizioso. Non è in grado di salire sul podio, dice il conduttore. Simoncelli ha meno punti di Aoyama pur avendo la moto ufficiale. Ecco, paragoniamolo a Aoyama perché alla fine le gare si guardano quando sono finite. Non è in grado di salire sul podio, dice giustamente il conduttore. E ha ragione. Laguna Seca, dice ancora il conduttore, è una delle gare in cui Rossi è stato inquadrato di meno nella sua storia. Ma rimaniamo sui vincitori, giusto anche questo. A Rossi però una domanda fattegliela una. Non una domanda cattiva. Una domanda è basta. Cioè non gli ha applausi perché alla fine ha recuperato, quando gli altri le allentavano, ha tolto quattro decimi sul secondo. Però ha preso un altro mezzo minuto, se non di più. La prima delle Ducati, se lo ripete anche lui, comincia ad essere grave questa cosa, che anche lui cominci ad aspirare ad essere niente di più che la prima delle Ducati. E la preghiera torna a farci godere, una gara senza di te non si può vedere, il motociclismo non è più lo stesso, sta casa aspetta a te. Tutte cose giustissime, per l'amor di Dio. Fra l'altro io credo che Rossi tornerà presto, però io mi chiedo che livello di indecenza o di rincoglionimento o incapacità di mettere a posto la moto sarebbe stato attribuito a chiunque altro se fosse stato in questa situazione? Perché Stoner quando era malato, malato, lo hanno processato? Nonostante tutto penso che Rossi tornerà. Però per il momento non è criticabile, dicono fai il massimo che può fare se non gli si ferma nessuno davanti. Che è un complimento terribile. Quindi vuol dire che il podio e i piazzamenti sono già un regalo, perché tutte le volte gli si ferma a Craccelo, eccetera. Però è la prima delle Ducati. E anche qui tantissimi hanno notato il fastidio di Hayden per essere arrivato dietro, abbracci strani, additamenti vari nel box Ducati, Valentino che è sempre più da parte del box di Hayden, insomma cose un po' sospette. Io non ci credo, non sono un tifoso e quindi cerco di affrontare il discorso separatamente. Però un po' così. Grazie a tutti.